finalmente sono riuscito a fare il video di tre santa per quanto riguarda il la settimana 5 quindi il weekend 5 ciao a tutti ragazzi benvenuti sul mio canale io sono davide andiamo a vedere com'è andata la settimana numero 5 per quanto riguarda il bot tre santa e questa settimana sono stato un po impegnato e quindi sono riuscito soltanto a farlo oggi comunque andremo sempre da mercoledì a mercoledì per andare a vedere come è andato il bot quale cose ho imparato perché è andato in determinate situazioni bene in determinate situazioni male insomma andremo a parlare come al solito del bot vi voglio ricordare comunque di mettere un like di commentare qui sotto di iscrivervi al canale attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare come al solito tutto ciò che andrò a dire non sono consigli finanziari ma mie opinioni personali basati su esperienza e studi fatti nel tempo allora la settimana va dal 12 fino al 19 vediamo che il 12 ho fatto 3 dollari e 63 il 13 ho fatto 6 dollari e 79 quindi abbiamo fatto 9 e diciamo 10 qui vuoto totalmente perché purtroppo i botte che stavano lavorando non sono andati a segno quindi abbiamo circa un 10 qui 11 11 e 6 17 17 18 e 60 19 e qui il 19 abbiamo fatto 19 22 e 55 quindi 22 dollari e 50 22 dollari e 50 nell'arco di una settimana ma dobbiamo andare a vedere una cosa molto importante ossia questa guardate che è successo abbiamo avuto un pump repentino del prezzo grazie al fatto che bitcoin è salito in maniera importante infatti vedete abbiamo 0 45 bitcoin e 54 dollari di picco massimo nel nostro portafoglio dopodiché ha incominciato a scendere momentaneamente abbiamo 0 41 bitcoin questo perché non è che sono diminuiti bitcoin ma le cripto valute all'interno del mio portafoglio incominciano a valere di meno rispetto alla valore di bitcoin e rispetto anche al volo in us dollar e quindi ho perso anche se in realtà ho guadagnato cosa significa come vi ho già detto l'altra volta il bot trade santa va a lavorare sulle coppie di cripto valute che voi avete avviato e inoltre andando a lavorare su queste coppie va anche a lavorare su delle cripto valute che sono diciamo rivalutabili sia in dollari che in bitcoin quindi nel momento in cui noi andiamo a vedere il totale valore del portafoglio che abbiamo in cripto valute sul bot viene valutato non per tre link 5 band e quant'altro ma viene valutato per il complessivo in btc e in usd e se il valore di btc sale e io ho molte cripto valute altcoin all'interno del mio portafoglio logicamente se il valore di btc sale il valore del mio portafoglio in btc scende mentre se il valore di delle cripto valute in generale all'interno del mio portafoglio sale il valore in usd sale e basandosi sul valore di usd in base al valore di btc potrebbe anche salire il valore di btc o scendere il valore di btc infatti guardate qui come potete vedere usd arrivato a 500 a 552 mentre bitcoin è sceso dal giorno prima al giorno dopo proprio perché molto probabilmente le cripto valute che avevo all'interno del mio portafoglio sono salite di valore mentre bitcoin è rimasto tale e quindi automaticamente la quantità di bitcoin è scesa rispetto al valore totale del mio portafoglio ma la quantità in usd è salita rispetto al valore totale del mio portafoglio inoltre possiamo tranquillamente anche vederlo qui abbiamo fatto 517 14 24 40 52 13 4 1 78 88 82 come vedete va scendendo va scemando il portafoglio cosa significa che non sto guadagnando no sto ancora guadagnando ma sto guadagnando in base alle cripto che in quel momento vado a lavorare in realtà questo fatto di fare un video a settimana è un po inutile perché come vedete da una settimana all'altra c'è molto divarico di differenza nel valore del portafoglio ma non c'è nella nella realizzazione del profitto e quindi questo vi fa capire che bisognerebbe vederlo da mese in mese ma io per portare un qualcosa di continuativo e logicamente per mostrarvi il mio percorso che non è nient'altro che il percorso di una persona normalissima che da dipendente vuole riuscire ad ottenere la sua libertà finanziaria vi porto settimana dopo settimana tutto ciò che faccio per farvi capire come riesco ad ottenere la mia libertà finanziaria dall'inizio quando incominciato con i video fino a quando arriverò ad averla e questo quindi è il mio obiettivo ho anche calcolato che all'incirca avere un portafoglio di queste dimensioni non è ottimale proprio perché come potete vedere qui ho fatto 10 entry order qui scusa 10 extra order qui invece 20 extra order e fare 20 extra order significa cercare di coprire al massimo l'andamento del mercato e adesso vi faccio vedere cosa significa come potete vedere il mio il mio portafoglio mi permette di coprire un oscillazione di mercato che può andare da questo punto fino a questo punto ma se dovesse andare ancora più in basso l'oscillazione di mercato purtroppo il portafoglio mi darebbe la possibilità di continuare a seguire l'oscillazione a cosa serve riuscire a coprire tutta l'oscillazione beh logicamente come vi ho già detto e come spero voi sappiate la media di entrata di ogni entrata è anzi scusate l'entrata ogni entrata è sempre uguale 0.0012 btc per quello che utilizzo io e andando a fare un entrato uguale ogni volta per 20 volte col mercato che scende automaticamente il valore medio della della quantità di in questo caso link che ho acquistato scende anche come take profit infatti il take profit se avessi lasciato solo questa entrata il first order avrei avuto il take profit qui sopra mentre dato che sono entrate più ordini il take profit automaticamente è sceso perché il valore medio è sceso e magari il valore medio è in base all'entrata extra order e 0 6 e quindi avendo un take profit di 0.400 per cento il mio take profit è dove c'è la linea tratteggiata ossia in direzione circa delle 0 le o 5 quindi extra order 5 questo vi fa capire che avere un portafoglio grande vi dà la possibilità di poter coprire tutti i movimenti se facciamo finta avessi avuto un portafoglio che mi andava a coprire venti movimenti venti entrate di mercato con un distacco tra l'entrata all'alta di uno 0 8 per cento avrei avuto tutta questa fascia ma se l'avessi messa qui sopra si sarebbe esaurita tranquillamente sicuramente ancora prima di arrivare qui sotto questo cosa significa significa che se si fosse esaurita qui e quindi in questa ripresa avessi preso il take profit ok ma se fosse continuato a scendere il take profit magari era qui sopra avesse toccato questo questa ripresa e fosse continuato a scendere in questo caso il mio take profit magari sarebbe rimasto a questo livello e non avrei coperto prima di tutto tutta tutta questa discesa magari si sarebbe fermata qui con un take profit qui sopra avrei avuto un bot bloccato quindi più entrate possiedete coprire quindi magari entrate che vanno a coprire addirittura tutto questo movimento di mercato che significa avere circa 40 entrate una cosa del genere extra order avere un extra un portafoglio vi permette fare un extra order di questa dimensione significa avere anche la possibilità di poter lasciare un bot automatico totalmente aperto sia in in un dump che in un pump perché in un dump se hai extra order così tanto grossi così tanto alti quindi magari 40 extra order sicuramente prima o poi anche toccando qui sotto vedete che avrebbe ripreso sicuramente il l'entrata anche perché da qui a qui diciamo che il valore medio circa è qui o magari qualcosa di più sopra e quindi in quel caso sareste riusciti comunque ad ottenere il vostro take profit se invece avete un portafoglio che non vi copre tutto sicuramente se fa un andamento come link che ha fatto in questo periodo avreste potuto avere un un bot bloccato quando vi esce di troppo il bot dalla vostra zona di take profit quindi che non riuscite più a coprirle magari si blocca anche il l'extra order perché non avete messi abbastanza cosa dovete fare ho scoperto che conviene fare questo ossia andare in short quindi creare un altro bot con il le cripto lute che avete acquistato con il bot di long mettete un bot in short e fate lavorare il bot in short proprio sulle cripto lute che avete utilizzato e quindi andate a lavorare in short nella direzione opposta logicamente andando a mettere altrettanti extra order quante potete permettermene sul long e quindi magari 20 15 30 non so quanti riuscite a metterne e in questa maniera anche una short riesce a coprire un movimento realzista di pump e quindi andare in long in questa maniera andate sempre a lavorare sarebbe ottimale logicamente andare a lavorare su coppie di cripto lute con uguali quantità di una e dell'altra quindi per esempio bitcoin link avere tot bitcoin e tot link che per entrambi bot riescano a coprire magari 30 ingressi e 30 extra order andando a coprire tenta extra order significa avere un bot in short e un bot in long che vanno a lavorare in contrapposto o addirittura c'è la possibilità di creare dei bot piramidali ma poi questo ne andremo a parlare in un altro video anche perché li sto ancora studiando pure io cosa mi è successo in questa settimana del perché è arrivato a zero in alcuni casi beh praticamente avevo un bot su il long di band e si è bloccato si è bloccato non è andato più in profitto quindi l'ho mantenuto per troppi giorni fermo è stato questo giorno fermo e quest'altro giorno fa anzi questi due giorni fermo e anzi no solo uno giusto quindi un giorno e due giorni dopo di che ho deciso di fare un bot in short ha andato a shortare dopo di che ha avuto un andamento realzista e praticamente io sono rimasto con le posizioni di short aperte per quanto riguarda usdt ma o usdt è una cripto valuta che mi può dare la possibilità di entrare su altre posizioni e quindi appena ho visto questo blocco ho chiuso anche il bot di band e l'ho aperto su btc in questa maniera sto lavorando su btc usdt per andare a ricompensare magari alcune perdite che ho ricevuto perdite che calcolate sono pari a mi pare 3 dollari quindi qualcosa di logicamente molto piccolo anche perché lavoro con volumi molto piccoli momentaneamente il mio obiettivo è arrivare a 1500 dollari di portafoglio diviso equamente 750 usdt 750 btc e riuscire a lavorare su bitcoin e magari cripto come link o ada che hanno dei movimenti di mercato molto più repentini si muovono molto di più come cripto luta e hanno una valuta di corrispondenza btc che comunque nel momento in cui dovesse bloccarsi il bot in short o magari in long riesco a riequilibrarli tranquillamente andando a spostare tutto in btc e lavorando poi con quelli guadagnati ricavati con la vendita della cripto luta stessa altcoin perché bisogna avere due investimenti old e bot proprio per questo perché il bot va a lavorare in questa maniera ma dovete starci comunque un po dietro l'holding invece come per esempio bloc fai vi dà la possibilità di poter avere un'entrata sicura automatica ogni mese anche se può essere minima ma comunque sempre è certa e questa è una cosa molto importante perché vi potete basare su le entrate per poi poter spingere con magari il bot quindi conviene sempre andare a lavorare magari 30 70 70 in holding 30 in bot se avete delle quantità di denaro esigue per esempio come faccio io 200 euro al mese circa io vado a lavorare con circa 150 dollari sull'hold e 50 dollari sul bot se riesco metto anche qualcosina in più sul bot ma dipende da come è andato il mese in questo mese comunque in questa settimana comunque questo è il mio ricavo quindi circa 22 dollari in una settimana niente male e questo è per quanto riguarda logicamente l'andamento del bot per la settimana numero 5 su trade santa io vi ringrazio per aver visto il video vi ricordo di mettere in piace commentare qui sotto iscrivervi al canale attivare la campanellina e andare a visitare il mio account instagram davidevasco 85 per tutti coloro che sono interessati a voler utilizzare il bot avere informazioni molto più specifiche soprattutto impostazioni di un certo livello per quanto riguarda proprio le macchine quindi i bot che vanno a lavorare ricordo sempre che bisogna magari utilizzare il mio link nel refeller qui sotto dove vado a guadagnare io il 20 per cento sulla vostra iscrizione mensile o annuale a seconda di quello che fate 20 per cento significa che se pagate 20 dollari io guadagno 4 dollari quindi divento ricco e logicamente puoi aprirvi ma anche il bot il un account su binance basandosi sul mio referral di binance sempre scritto in descrizione vi ringrazio per aver visto il video e al prossimo video ciao a tutti ragazzi grazie a tutti grazie a tutti